Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In genere io la televisione non la guardo mai, ma quello che è successo al Grande Fratello è diventato argomento di discussione, perciò ne parliamo subito dopo la sigla. Forza! Se vi siete persi un po' gli argomenti di discussione che ci sono stati ultimamente vi faccio un rapido riassunto. Si è parlato di Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam, attore e personaggio che ha partecipato a questa specie di Grande Fratello VIP e di quelli che sono stati i problemi che sono stati portati poi alla luce, problemi della psiche e atti di bullismo da parte degli altri concorrenti che poi sono stati penalizzati e hanno aperto una vera e propria polemica. Allora, che cosa possiamo fare come considerazioni? Innanzitutto, la prima considerazione è che in genere noi tendiamo sempre ad ignorare questi tipi di problemi, o meglio, mentre una persona disabile con una disabilità evidente, come esempio chi sta su una carrozzina, è subito identificabile e quindi ci prepara e ci mette in un determinato mood e ci predispone in un certo modo nei suoi confronti, invece questo tipo di problema, facendo parte della psiche, è meno visibile, è più subdolo e quindi difficilmente interpretabile e mette in condizioni gli altri di comportarsi anche in modi non propriamente empatici, non propriamente appropriati, cosa che ovviamente è successo. Ora, ci sono state delle penalizzazioni, penso sia stato anche giusto, alcuni comportamenti dal mio punto di vista sono stati eccessivi. Vi dico una cosa e la metto come premessa, io non ho una laurea in psicologia, non mi occupo di questo campo, non sono assolutamente un esperto e sono semplicemente le mie opinioni, quindi tutto quello che dico da prima e da adesso in poi non è nient'altro che le opinioni di una persona qualunque. Se volete continuare ad ascoltarmi, diciamo le condividerò volentieri con voi. Allora, quando si tratta di questo tipo di problemi, e vi posso assicurare che ho avuto a che fare con persone che avevano problemi psicologici anche più o meno gravi e si parla di tentato suicidio, è difficile relazionarsi, nel senso nel momento in cui tu sei a conoscenza di questo problema, già non sai bene in che modo porti, se puoi continuare a comportarti normalmente. Facciamo finta che c'è una specie di linea, tu finché il problema non lo conosci tratti una persona senza nessun problema, senza nessuna remora, nel momento stesso in cui lo sai ti crea uno stato diciamo di preoccupazione, nel senso che non sai più se quello che potrai dire o quello che dirai potrà essere interpretato correttamente, potrà essere interpretato male, se potrà far scaturire o meno degli atteggiamenti nei confronti della persona con cui ti stai relazionando, quindi già ti predisponi in una maniera un po' differente. Il fatto che poi appunto non è una cosa ben evidente, ben visibile, soprattutto siccome c'è tanta tanta disinformazione, a volte si può relazionare anche male, a volte si può tentare, cioè si tende ad evitare di relazionarsi con questo tipo di persone perché le si ritiene persone problematiche, ma questo perché? Perché c'è tanta disinformazione, non si sa come ci si può relazionare, come si può reagire, come si può comportare in determinati contesti. Io non voglio assolutamente difendere i, come si dice, i concorrenti del grande fratello per come si sono comportati, però non posso neanche dire che sono penalizzabili al 200%, cioè vorrei vedere una qualsiasi persona senza alcun tipo di formazione che ha a che fare con una situazione del genere, una persona che ti scoppia in lacrime, che ha dei problemi, dei problemi seri e tu, tralasciando loro, mi metti in questi panni e io potrei non sapere come aiutarla, potrei non avere i mezzi adatti, potrei fraintendere, potrei... non essere adatto a comportarmi in una determinata situazione, perché anche io sono un ignorante, ragazzi c'è già tanta ignoranza di per sé, io non posso dire di essere un genio, io sono un ignorante come tanti, in determinate situazioni potrei non avere gli strumenti adatti per risolvere un determinato problema. Voglio fare un esempio assurdo, cioè se mi si rompe un computer, io di informatica ne capisco, ne so risolvere, se mi si rompe il quadro elettrico in casa non so dove andare a mettere mano e devo chiamare l'elettricista, con le persone forse c'è un minimo di cosa simile, cioè se c'è una situazione problematica e anche di determinati livelli non tutti sono adatti a metterci mano, a volte c'è bisogno dei professionisti che sappiano metterci mano, soprattutto quando si tratta di argomenti e di situazioni delicate come quella che si è presentata in televisione. L'unica cosa che mi fa piacere, scusatemi se lo dico riguardo questa situazione, è che appunto si è mostrata quella che è l'ignoranza delle persone con determinati argomenti, noi tendiamo a mettere come lo struzzo la testa sotto la sabbia per evitare di parlarne e facciamo finta che non esistano proprio, invece forse adesso la gente si documenterà un attimo, si informerà e cercherà di capire meglio qual è stata la situazione che si è presentata, che cosa sono questi tipi di problemi e eventualmente anche un minimo come potersi relazionare. Ragazzi, scusatemi questa breve chiacchierata, questa sarebbe una riflessione veramente da approfondire, sono molto curioso di conoscere la vostra opinione riguardo questo argomento, che cosa ne pensate di quello che è successo e di questo argomento di discussione, vi aspetto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e condividetevi con i vostri amici e come se vi va ci vedremo nel prossimo video. See you next! Ciao!